L'arrivo di Murigno che cosa può portare alla Roma secondo te? Tantissima cosa, a parte che è un vincente, un grande allenatore del mondo del calcio, è uno a livello comunicazione, la leadership, quindi sicuramente svegliare tutti i giocatori che quest'anno, che io ritengo grandissima giocatore, che non siamo da settimo posto e quindi sicuramente farà ritrovare a tutto l'ambiente, sicuramente Murigno chiederà pure, penso, due o tre giocatori, quindi c'è da divertire. Abbiamo con Murigno, la Roma è ritornata una società ancora più importante, quindi sono molto contento di Murigno. Anche perché sono passati vent'anni dall'ultimo scudetto? Purtroppo sì, io ci credo il progetto Murigno, quindi spero per tutti, per la città, per i tifosi, per il stesso giocatore che si ritorna a festeggiare. Ultimissima vincente, un pensiero anche per il mister, il maestro per me, Zdenek Zeman, che ha appena compiuto 74 anni. Tanti auguri, ho vissuto due anni, alte e basse, che noi litigavamo spesso perché io ero un po' più giovani, però mi ha dato tanto, mi ha dato tanto a livello tattico, ma anche a livello come si lavora. È un grande lavoratore, un grande maestro di calcio, quindi anche se ho litigato più di una volta, ma sì, perché ero giovani, però lo ritengo, fa parte dell'allenatore che mi ricordo con grande affetto. Hai un aneddoto da raccontare, simpatico? Sì, simpatico sì, allora appena è arrivato, io non lo conoscevo, fumavo tantissimo giustamente, eravamo in piscina con Di Biagio e Totti e lui ci chiede da scommesso che fa due volte sotto l'acqua la piscina, io fumavo così, ho accettato, non sapendo che lui era comunque un grande notatore. E quindi subito è arrivato e mi ha fregato di 50 euro per scherzare, però è stato molto piacevole e divertente perché è un mister che con noi stava, si divertiva anche con noi.